Sì, grazie Presidente. Allora, quando abbiamo depositato la nostra mozione sul trasporto pubblico locale ci siamo chiesti, ma forse siamo stati un po' troppo sintetici. Poi abbiamo visto la mozione della maggioranza, abbiamo detto la nostra al confronto è una tesi di laurea e alla nostra e anche quella degli altri, perché secondo me voi non avete capito che cosa vuol dire trasporto pubblico locale. Il trasporto pubblico locale è un asset infrastrutturale importantissimo per un paese, per un'azione come la nostra. È un asset infrastrutturale che permette di aumentare la qualità della vita, la qualità ambientale, aumenta la sicurezza stradale, perché migliorare il trasporto pubblico locale fa in modo che ricirchino meno auto sulle strade, meno auto sulle strade, meno incidenti e meno morti. Io ricordo che in finanziaria voi avete messo 19 miliardi sul costo sociale per l'incidentalità stradale, che è una cifra enorme, sono poi legate chiaramente a un tema molto molto importante e che tutte le associazioni, tutti i cittadini ci chiedono di affrontare in maniera seria. Nella nostra mozione noi abbiamo messo tutta una serie di indicazioni per far sì che il trasporto pubblico locale sia un nodo di una rete del trasporto, perché noi vediamo questa idea del finanziare questo asset, la modalità di creare una rete che permetta di riuscire a unire anche altri tipi di trasporti che magari adesso esistono, non magari che i trasporti che esistiranno in futuro, ma più che altro la multimodalità e anche, ripeto, anche quello che è già stato detto, il fatto di non funzionare, per esempio, il progetto MAS, Mobilitas a Service, che aiuta proprio su questo tema della multimodalità di trasporti, è un fatto sconcertante da parte di questo governo. La multimodalità però vuol dire, io capisco perché voi avete bocciato, diciamo, questi impegni nelle nostre emozioni, vuol dire riuscire a dire apertamente che la mobilità elettrica su monopattino, con bici elettriche, le mobilità alternative, le zone 30, sono dei progetti, delle attività che sicuramente servono al miglioramento del trasporto pubblico locale. Ma il tema fondamentale che noi abbiamo cercato anche di far capire e indicare in maniera sintetica nella nostra mozione è che ci sono, scusate che c'era un telefono che suonavo, dicevo, il punto fondamentale è che questo tipo di modalità che noi stiamo portando avanti è necessita di finanziamenti. E questo è il leitmotiv che hanno tutte le nostre mozioni delle opposizioni. La mozione del PD, come la mozione di Alleanza Verdi Sinistra, la mozione anche dell'Italia Viva e Azione e tutte le altre opposizioni che hanno presentato dei suggerimenti alla maggioranza. Ma i finanziamenti su questo tema non esistono dal punto di vista delle preoccupazioni del Governo. Perché? Perché non esistono? Perché noi abbiamo un convitato di pietra, perché noi abbiamo delle risorse che per il trasporto pubblico locale vengono drenate da altre opere che non servono effettivamente. E faccio riferimento in particolare per le opere di trasporto pubblico locale del Sud Italia. E vi faccio riferimento espresso al dirottamento dei fondi FSC di Calabria e Sicilia che sono stati usati per finanziare il Ponte sullo Stretto. Per finanziare un'opera che è un feticcio, che è una propaganda elettorale di un partito della maggioranza noi togliamo la possibilità di finanziare il trasporto pubblico locale nelle regioni del Sud che chiaramente rispetto ad altri trasporti pubblicali ha ulteriori problematiche e noi creiamo una piccola autonomia differenziata che fa già schifo l'autonomia differenziata che state provando a fare dal punto di vista della modifica alla Costituzione ma creiamo anche un'autonomia differenziata con regioni con un trasporto di serie C e regioni con un trasporto di serie A. Chiaramente noi abbiamo anche indicato tutta una serie di altre modalità che indicano tutti ma perché è il futuro. Il futuro è andare verso altri tipi di carburanti, il futuro è l'elettrico e noi sull'elettrico abbiamo indicato la possibilità nella nostra mozione di andare a investire con incentivi non solo l'acquisto delle auto elettriche senza demagogia che voi fate proprio per negare anche i cambiamenti climatici che tutti noi possiamo vedere ogni giorno ma dicevo finanziare il passaggio verso i motori elettrici sia nel trasporto pubblico locale di massa ma anche nel trasporto pubblico privato ma anche nel trasporto pubblico aziendale è un'attività che aiuterà sicuramente questo sistema multimodale ai trasporti infatti noi indichiamo anche la possibilità in due punti di andare a incentivare anche il noleggio di auto elettriche e lo diciamo per un motivo molto semplice, incentivare il noleggio di auto elettriche da parte di aziende private permetterebbe anche di creare un mercato dell'usato dell'auto elettrica e creare un mercato dell'usato dell'auto elettrica permetterà di ridurre i costi per i cittadini per un giorno avere a disposizione un'auto elettrica sempre andando nello specifico e andare sempre sul discorso della ripartizione dei fondi eccetera voi avete diciamo riformulato il tema, un tema importante che riguarda la Regione Lazio e Roma Capitale e su questo tema torneremo, penso che in tutte le mozioni c'è questo tema specifico anche lì il finanziamento del Fondo Nazionale per il trasporto pubblico locale deve essere fatto tenendo conto dell'effettiva utenza, degli effettivi dati che si possono ricavare per regolare e dare dei finanziamenti giusti per equazione giusta dei fondi perché noi abbiamo Roma Capitale che ha dei finanziamenti bassissimi rispetto a un'utenza enorme dal punto di vista di numeri e adesso abbiamo queste possibilità dal punto di vista tecnologico di avere questi dati io cito sempre Torino perché sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto a Torino a Torino per il progetto della Metro 2, abbiamo raccolto tutta una serie di dati sugli spostamenti e siamo riusciti a capire qual era la disponibilità di utenza quali erano i possibili ricavi della futura metropolitana ma anche capire qual è il percorso migliore tutti questi dati esistono, se però si finanziano e non si buttano soldi su altre opere inutili noi abbiamo la possibilità di andare verso un vero trasporto pubblico locale che aiuta chiaramente tutto il Paese quindi la sintesi alla fine è molto semplice se voi non investite sul trasporto pubblico locale non è che togliete un po' di soldi da un elemento chiaramente marginale della politica industriale, delle politiche anche sociali, delle politiche ambientali del nostro Paese togliete un punto fondamentale che diminuisce, come ho detto prima la qualità della vita delle persone, diminuisce la disparità tra le regioni d'Italia diminuisce la possibilità chiaramente di diminuire i morti sulle strade questa è una cosa molto importante e voi lo fate conscientemente perché mettete dal punto di vista della vostra prerogativa politica il fatto di andare per opera e spot senza considerare un progetto uniforme il trasporto pubblico locale, come il trasporto merci, come il trasporto aereo sono delle reti di trasporto importantissime hanno tutte delle funzioni specifiche e voi, bocciando queste emozioni che sono degli impegni tra l'altro secondo me, secondo noi, erano degli impegni nemmeno tanto forzosi per andare a creare un dibattito veramente di scontro ideologico create proprio un precedente per cui voi non lo fate perché non siete capaci a farlo perché io ho molto rispetto delle vostre capacità ma voi avete fatto una mozione perché un po' vi vergognate di non poter dire veramente quello che pensate su questo argomento perché, come ho detto prima, gli equilibri all'interno della vostra maggioranza fanno dirottare i soldi per opere inutili invece di spostarli su un tema, su un trasporto pubblico locale che avrebbe un impatto positivo enorme per il nostro Paese e tra l'altro io ricordo, perché tutti dimenticano che in questi ultimi anni, grazie al PNRR avevamo un'occasione storica di spendere questi soldi ma voi in questo caso la state perdendo e la stiamo perdendo tutti la perdeste solo voi? Io chiaramente me ne farei una ragione ma la sta perdendo tutto il Paese quindi da questo punto di vista io dico che effettivamente state perdendo l'occasione di prendere un impegno che è una mozione non è una proposta di legge ma fa capire come voi siete in imbarazzo sul tema del trasporto pubblico locale perché dovete tenere una posizione veramente banale su questo tema importantissimo che non fa bene né al Paese ma non fa bene nemmeno alla possibilità dei cittadini di vivere meglio sia il trasporto pubblico locale sia le loro città e di migliorare la qualità ambientale del nostro Paese grazie grazie